Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre, se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'Inter continua a cercare con determinazione un difensore che possa ricoprire il ruolo di vice bastoni nella solida difesa a tre di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal rinomato giornalista di Futmercato, Santi Auna, il club nerazzurro sarebbe tornato a puntare su Nathan Zezé del Nantes, un nome già emerso nei giorni scorsi. Le ultime indiscrezioni rivelano che l'Inter avrebbe messo sul piatto un'offerta di circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. Tuttavia, il Nantes ha prontamente rifiutato la proposta, chiedendo 5 milioni in più. Nonostante ciò, la trattativa rimane ancora aperta, anche se il club milanese deve fare attenzione alla concorrenza crescente di alcune squadre della Premier League, che potrebbero inserirsi e complicare ulteriormente l'affare. L'Inter è intenzionata a chiudere il colpo, ma resta da vedere se sarà disposta a rilanciare l'offerta o se, invece, si orienterà verso altre opzioni. E voi, tifosi nerazzurri, cosa ne pensate? Sareste felici di vedere Zezé in maglia interista o preferireste un altro profilo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'Inter.